buongiorno ben trovati dalla redazione web della città cominciamo subito con le notizie di viabilità per questa giornata e per quanto ci aspetta anche domani vi segnalo per oggi in corso Galileo Ferraris nel controviale abbiamo un divieto di transito nel tratto compreso tra il civico 8 e via Tiepolo si tratta di lavori edili fino alla fine del mese avremo anche dei rallentamenti in via Ambrosini abbiamo poi un divieto di transito in corso Fellucci nel controviale tra via Cialdini e piazza Adriano altri rallentamenti li abbiamo in corso Rosselli all'altezza del civico 99 poi ancora in corso in Audi nella carreggiata laterale tra corso Mediterraneo e via Giovanni da Verrazzano un divieto di transito altro divieto di transito in corso Turati nel controviale tra via Spallanzani e corso Lepanto un altro divieto in via 7 in corso Settembrini tra via Monastir e via Carnia e poi vi segnalo che in via Porta Palatina tra via 4 Marzo e via Palazzo di Città anche qui non si può passare per dei lavori edili e infine l'ultimo divieto in viale dei Mughetti tra il civico 20 e gli interni A e B e C anche qui per dei lavori oggi in manutenzione sono in manutenzione i semafori di corso Agnelli all'angolo con via Filadelfia mentre invece domani saranno in manutenzione i semafori di corso Galileo Ferraris all'angolo con via Pastrengo e piazzale Duca d'Aosta e in corso Valdocco all'angolo con via Del Carmine e via San Domenico sono parecchi come vedete le limitazioni della circolazione anche perché ovviamente nel periodo estivo si intensificano i cantieri andiamo a vedere la situazione del tempo in città l'Arpa Piemonte ci dice che alle 15 nel centro cittadino avevamo una situazione di poco nuvoloso temperatura sui 30 gradi è scesa molto l'umidità rispetto a questa mattina vedete siamo al 47 per cento questo però non ci allontana dallo spettro dei temporali che come al solito in questi giorni caratterizzano le nostre serate e quindi avremo una piccola depressione che arriva da nord e ci porterà ovviamente cielo coperto e pioggia a partire già da questa serata nella notte le minime saranno intorno ai 19 gradi quindi decisamente più fresche rispetto al solito e poi abbiamo una massima domani intorno ai 30 gradi andiamo a vedere le notizie dal web della città vi segnaliamo con piacere che giovedì 9 luglio a partire dalle 21 nel cortile palazzo carignano ci sarà la premiazione del concorso architettura rivelate 2009 tra i premiati abbiamo anche tre tecnici comunali che hanno progettato la nuova palestra di arrampicata sportiva di via braccini trovate i dettagli per poter eventualmente partecipare alla serata dalla nostra notizia passiamo a vedere le nostre webcam andiamo a vedere la situazione in città partendo come al solito dal centro la piazza palazzo di città vedete che il sole già comincia a nascondersi qui invece siamo nella zona nord della città abbiamo un po' di traffico in entrata dalla torino milano ma tutto sommato molto scorrevole passiamo invece al sud a sud della città rotonda maroncelli non ci sono in questo momento problemi abbiamo un po' di traffico in corso agnelli direzione lingotto lo vedete nel quadrante inferiore sinistro qui siamo già in piazzale caio mario non ci sono qui problemi di traffico ci spostiamo poi in corso siracusa all'angolo con via tirreno abbiamo un po' di traffico in basso lo vedete su via tirreno e infine chiudiamo la carrellata delle telecamere del consorzio 5t con piazza aderna qui vedete la situazione sulla rotonda è tranquilla non ci sono problemi per quanto riguarda la viabilità bene allora pioggia permettendo è comunque estate quindi tempo di festival di appuntamenti all'aperto andiamo a sentire da Matteo De Simone che cosa fare questa sera a Torino io vi do appuntamento domani mattina alle 9 e 15. Buon pomeriggio grazie Mirko vi segnaliamo allora alcuni appuntamenti per la serata di oggi sono tre gli appuntamenti due di musica il primo che vi segnaliamo è quello con il concerto di Franco Battiato che si esibisce questa sera la regione veneria reale all'interno della rassegna veneria real music all'inizio del concerto alle 21 e 30 il secondo è quello di Caparezza al Cicopun Festival la musica di Caparezza un rap velocissimo sprezzante di ogni regola metrica a partire dalle ore 21 al parco Cico Mendes di Borgaro Toninese per finire Disastro Hollywood è il film diretto da Barry Levinson che viene proiettato questa sera al massimo via verde 18 in sala 3 a partire dalle ore 20 e 30 e poi secondo spettacolo alle ore 22 e 30 per quest'oggi è tutto ringrazio Mario Parena che ci ha aiutato nella messa in onda della puntata vi do appuntamento domattina alle 9 e 15 con le notizie dal web della città tutti voi una buona serata